Buongiorno, rieccoci, allora stamattina vi voglio truccare con Natasha Denona questa è la certezza mi vedete con i capelli legati così, ma a fine video vedete una sorpresa so che chi vuole può andare a vedere però dai, non fatevi lo spoiler allora, intanto mi metto il primer questa voglia in realtà, no, faccio un passo indietro io voglio farvi un get ready with me con questa palette che sto per mostrarvi e che è un regalo di una ragazza che conosco, ho anche conosciuto personalmente, siamo viste un paio di volte a Milano, Claudia cioè non sai quanto ti ringrazio, cioè guardate cosa mi ha regalato io scioccata aspettate che vi abbaglio cioè, ditemi voi morta, io l'ho già usata ovviamente e voglio fare un get ready with me con voi però in realtà visto che ho in mente una cosa ben precisa da farvi vedere e per quello che devo fare oggi era un po' too much diciamo perché infatti farò anche una base leggera in teoria ma vediamo che cosa viene fuori la mia idea scelta è ricaduta su una tascia di nona perché? perché ieri sera me l'ha detto una di voi sul gruppo telegram anzi sul gruppo telegram cioè è diventata una cosa bellissima cioè oltre alle mie migliori aspettative devo dire non pensavo insomma viene fuori che praticamente il sito italiano di Look Fantastic si è riempito di una tascia di nona è rata corrige nel frattempo è già sparita ed è tornata sold out però in realtà è acquistabile dal sito inglese cioè fanno va in realtà c'erano solo tipo due o tre prodotti ma in realtà era anche acquistabile dal sito inglese poi di fatto però praticamente tipo ieri sera infatti ho messo la foto su Instagram io non pubblico quasi mai queste cose su Instagram però adesso tipo non so se lo sto dicendo adesso domani metto il video domenica e magari non è più con lo stesso prezzo io spero che sia ancora così però nel caso non prendetevela con me fatto sta che passava tipo a 47 euro e spicci la Glam Palette che erosico tantissimo perché non posso prenderla però sappiatelo ecco ma in realtà c'erano tante anche altre cose scontate cioè scontabili comunque che venivano a un prezzo ottimo la Bronze la Long Palette la Biba allora stamattina le ho tirate fuori tutte perché ah tipo questa la Metropolis viene tipo 85 euro questa qua la apro perché se non la vedete aperta non non vi innamorate quanto sono belle tutte insieme allora le ho tirate tutte fuori però credo che la mia scelta alla fine stia per ricadere in una di queste due adesso decido tra la Mini Star e la Mini Gold e tra l'altro queste piccoline vengono scontate tipo 18 euro e spicci tutto questo oggi che è sabato se domani se domani è ancora così ve lo scrivo nell'info box comunque intanto metto il solito ombretto adesso sto mettendo questo di MAC panna che è l'unico colore che mi manca in queste due ma dicevo che l'unica cosa che devo fare oggi in realtà è una camminata quindi con un'amica un po' vicino quindi non è che ci abbia voglia e con la full face no allora io stavo pensando mi sa che vado sulla Mini Star dai è stata abbandonata per troppo tempo vado sulla Mini Star prendo faccio questo come transizione poi questo lo metterò sulla palpebra mobile salirò di pochissimo e poi ci metterò questo sopra nel frattempo chiacchiero il mio Black Friday si è svolto con un giretto fatto un piccolo giretto al mercato dell'usato ieri io vado nei posti in orari quando possibile ovviamente in orari improbabili cioè quando in teoria non c'è nessuno cioè già lo facevo normalmente adesso figuratevi ancora di più quindi sono andata al mercato dell'usato a fare un giretto verso le si erano le tre esatte torno a casa parcheggio la macchina rimango in macchina mi guardo nello specchietto retrovisore guardo e mi vedo con questo ciuffo qui davanti bruttissimo che dovete sapere che la mia frangia ciuffo stava prendendo una piega veramente brutta magari lì per lì con la piega appena fatta ancora decente ma vi giuro che l'indomani mattina era una tortura ogni volta dovevo risistemarla da capo in realtà ci stavo pensando da un po' perché non lo so io quando comincio a sentire le punte che non sono sane qualcosa che non mi convince mi do tagliare i capelli io l'ho pensato ho chiamato subito e sono andata a tagliarmi i capelli alle 5 avevo i capelli tagliati non pensavo che avrei tagliato tanto devo essere sincera pensavo un po' meno però alla fine ho detto vabbè dai c'è proprio tanta parte che c'è tutto l'inverno per crescere ma avevo voglia di qualcosa di un piccolo cambiamento quindi prendo il marroncino scuro e non sono tornata dal parrucchiere quello gioielliere di Galleria Cavour perché 70 euro di taglio proprio non potevo farcela per cui alla fine sono tornata da un parrucchiere di in realtà sono tanti parrucchieri dentro il centro borgo dove sono andata altre volte non mi ero mai trovata male dico che mi avessero proprio entusiasmata mille però mi sono sempre trovata bene quindi alla fine mi ha fatto quello che ho chiesto più o meno poi ve lo spiego appena vi faccio vedere poi dopo i capelli diciamo che più o meno ha fatto così ha fatto quello che mi ha chiesto è stata molto carina molto gentile nei modi l'unica cosa che è andata un po' così mi ha lasciato un po' perplessa è stato il fatto che di fronte cioè alle mie spalle c'era una signora che stava adesso io racconto sta cosa adesso cominciano le rotture di già lo so vabbè però non me ne frega niente c'era una signora sotto il casco alle mie spalle che leggeva una rivista con la mascherina totalmente tolta appesa all'orecchio tipo zaino invicta allora io cioè accanto alla signora tra l'altro c'era una cliente con la parrucchiera cioè la parrucchiera che le stava facendo i capelli che non le diceva niente allora dico alla mia dico scusa mi puoi dire alla signora io mi riferivo alla signora ho la tua collega che è accanto di far rimettere la mascherina alla signora non l'avevo dovuto essere io a dirglielo vabbè fatto sta che mi glielo dice la signora se la mette ma facendo una faccia che signora anziana è sulla settantina dopo dieci minuti di nuovo allora è scema allora a quel punto mi comincio a innervosire dico scusami ma di nuovo ma ho stato collega non dice niente in un certo punto pure la signora che aveva sotto le mani l'altra parrucchiera si toglie la mascherina ha detto scusate ma non è tollerabile una cosa del genere poi non lamentatevi se vi chiudono però cioè io non le posso non le tolero ste cose comunque alla fine se le è rimesse comunque a parte questa parentesi che veramente mi fa passare cioè a me fa passare la voglia di fare le cose perché va a finire che magari esci per andare a fare una cosa che ti piace per me andare al parrucchiere è una cosa che mi piace e finisci per incazzarti e tornare a casa più incazzato di prima cioè più teso e nervoso di prima ecco poi con il dito prendo l'ombretto quello duochrome e lo metto sopra praticamente ho finito il trucco perché non so se sotto adesso faccio qualcosa di cioè non penso di mettere kajal proprio metto giusto un po' di marroncino così mascara metto quello di MAC di Extreme Dimension forse ancora non ve l'ho fatto vedere con la laminazione però ovviamente che ve lo dico a fare è fichissimo anche con la laminazione tra l'altro la base cioè metterò solo il correttore così con la scusa vi faccio vedere una cosa perché andando a camminare con la mascherina sempre indossata cioè proprio fissa senza toglierla mai cioè è veramente inutile cioè base viso vi faccio vedere quello che l'altra volta vi dicevo fatto per sbaglio ho messo il primer illuminante di By Terry questo il Sissy Serum Brightening Sissy Serum io ce l'ho nel colore Apricot Glow quella volta l'ho messo con la spugnetta solo che non ha proprio senso metterla con la spugnetta ovviamente non uniforma illumina solo un casino e poi faccio una base di quindi correttore scendo solo un pochino qua dove sono leggermente più rossa con il correttore di By Terry il Terribly Densilis Concealer ce l'ho nel colore numero 3 ma credo che il 4 per me sarebbe più adatto o forse tutti e due insieme devo provarlo faccio così e non ho paura di farlo perché questo correttore è talmente leggero cioè sparisce proprio nella pelle che vi permette di farlo ecco praticamente camuffando questa parte qua che è la zona più rossa io mi sento a posto cioè non sento bisogno di mettere fondotinta poi prendo metto un pochino di bronzer ma poco come blush metto l'illuminante di Zoeva sapete che questo non ho guardato se avesse degli sconti particolari è come illuminante del momento ma io non ve l'ho fatto ancora vedere la mia nuova fissazione cioè allora dopo aver scavato e qua vediamo il fondo della cialda questa io quando ho visto questa dal vivo sono impazzita ma non l'ho presa dal vivo meno male l'avevo presa da pinalli che quando l'ho presa io facevo uno sconto allora alla fine l'ho pagata tipo 30 euro ragazzi questa cosa dovete prendere questa è la rose gold perché ha tutte le cialde utilizzabili questa cosa mi fa impazzire allora praticamente io ho sperimentato che faccio un mix fra questi due tipo lo stesso pennello che adesso ho usato per il blush e lo metto sulla zona blush e poi invece un mix di questi due per come illuminante poi dipende a volte magari insisto più su quello più dorato sì con l'illuminante ci vado giù pesante ma io non so se adesso mi faccio di swatch dei colori non so se non rendono in video è una cosa stupenda questa palette cioè le texture di queste palette di Dior dalla linea backstage sono qualcosa di pazzesco credo che le beccate anche se non è sold out perché purtroppo è già l'ho vista andare sold out già due volte ecco se non è sold out accattatevilla perché è qualcosa di stupendo non credo però sia una limited edition ops quindi dovreste trovarla infine cipria ovviamente manca a dirlo mettiamo questa di By Terry così si fanno compagnia tutti i prodotti questo è un trucco per me sugli occhi comfort zone perché di quelli che mi piace un sacco perché sì è intenso cioè dà un pochino l'intensità ma veloce da fare almeno per me ma sulle labbra non penso che metterò niente adesso ho il il lip balm la maschera di Laneige perché ho fritto il burro cacao quindi sto usando quello un attimo come burro cacao penso che metterò al massimo un gloss adesso vediamo vado a sistemare i miei capelli e ci vediamo alle luci naturali aspetta intanto non vi ho detto come si chiama la palette questa è di Pat Mothership Mega Celestial Divinity Divinity approfittavo no solo almeno qualche swatch con questa luce ve la faccio ve lo devo fare allora tanto lo so che avete docchiato già questo o questo o un altro che a me aveva colpito tantissimo è questo come si fa questo allora quando dico che diciamo che ha fatto quello che ho detto ma non troppo io volevo una cosa ancora più pronunciata cioè volevo un asimmetrico molto più pronunciato davanti c'è da dire che con questa piega si capisce anche meno infatti voglio vedere adesso quando li farò lisci spero che sia più accentuato fino a poco prima di tagliare davanti c'eravamo quasi però in realtà forse è stato meglio così perché qui cominciavo ad avere un po' di doppie punte per cui io stavo sempre lì ad aprirle invece adesso sento che appunto sono state eliminate quindi adesso di sicuro non ne ho dietro che mi ha tagliato tanto così dietro tantissimo niente avevo voglia di un po' di cambiamento soprattutto l'ho fatto solo perché ho perso un po' di peso e chiaramente i capelli lunghi il viso lo sfinano un po' sennò sembravo troppo pacioccona diciamo per citare i paciocchi ma a proposito cioè voi non potete capire io ho visto non ho visto se su youtube ho pubblicato qualcosa onestamente ma Clio ha messo un video di presentazione dei patch occhi su instagram non dicendo assolutamente niente cioè io l'ho guardato interessata ho detto dai visto che anche sembravano anche molto fighi esteticamente ho detto però dirà qualcosa perché funzionano sti patch cioè un video in cui non dice assolutamente niente ho avuto l'ardire di commentare chiedendo appunto delle specifiche tecniche e mi sono anche sentita dire vabbè possiamo perdere la risposta da una che per difendere Clio attacca me su una cosa che non c'entra assolutamente niente niente ma vabbè mi ha lasciato un po' perplessa potrei anche sarei potuta anche andare sul sito dei patch occhi anzi dei pacciocchi il nome è simpatico per carità ma onestamente no mi rifiuto e non lo so non condivido questa questa cosa questa comunicazione tra l'altro per il correttore per esempio è stata fatta secondo me una buona comunicazione mentre per questi patch occhi c'è un video in cui non dici che cosa dovrebbe fare perché di fatto dice ah mi ha cambiato mi cambia la faccia questo è il sunto di quel video ma non dice se è fatto per le occhiaie per le borse per le rughe dice no dice anche quanto bisogna tenerli ecco però non dice ma anche c'è un acido ialuronico una cosa qualsiasi non so dimmi perché dovrebbero funzionare perché dovrei acquistarli dice io e i miei chimici ci abbiamo lavorato un sacco ho capito ma i tuoi chimici te l'avranno anche spiegato che ci hanno messo dentro vabbè comunque scusate mi è venuto questo flash dalla parola comunque niente io sto smaniando penso che domani mattina rifarò già lo shampoo perché sapete adesso all'irà di come è stato fatto il taglio finché non ci metto le mani io non non sono contenta voglio vedere cosa viene fuori vi saluto ci vediamo alla prossima grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti